Ciao ragazzi Monopoli Madness Allora Un caldo benvenuto Monopoli Madness Mi sembra di vederti per la prima volta Ti spiego brevemente le regole Dai, spiegami amico Iniziamo dai Bellissimo Il pingo È fichissimo Vediamo se c'è un drago No No, il drago non c'è Allora Il pingo, il pingo è bellissimo Ok Fino a quattro giocatori tra l'altro Bello Monetà assistenza per iniziare con più soldi Beh, ci sta Ok Ok Ah, ah, ah Fico Dai Per iniziare consiglierei di raccogliere prima alcune risorse utili Sì Dai, dai, dai Raccogliamone Raccogli tutto Pingui Grande Via Passiamo al prossimo isolato In quest'area dimostrerò come ottenere delle proprietà Soldi Tutti i miei Ok Ok Iniziare soldi sulla proprietà letteralmente Andate ora e fatevi valere Ne resterà soltanto uno Inizia l'asta Ah, cerchio Una proprietà l'ho presa Cerchio Per acquistarla a un prezzo fisso Se hai abbastanza soldi ovviamente Ben fatto Andiamo avanti Bella Tre proprietà La centrale è molto più Ah, ah Visto com'è facile Vi tornerà utile Dico davvero Ma torniamo agli appunti Questa è bella se ci gioco con Carla e Leo E volevo mostrarvi Come migliorare le proprietà Ogni edificio può essere migliorato Spesso più volte Purtroppo però Tutto a un prezzo Potete raccogliere le risorse richieste Nelle strade della città O direttamente negli edifici delle pappe Tenete presente però Che non si possono trasportare risorse infinite Oh ma una la voglio io L'ho portata al 3 Il pinguino è fantastico Ok sono qui Sì vedi Insomma vincere a questo gioco sarebbe in realtà molto facile Se non ci fossero gli avversari Ma Monopoly Madness non si chiama così a caso C'è una vasta gamba di possibilità per affrontare questo noioso contrattempo Contrattempo Basta aprire uno dei forzieri municipali Che si trovano in giro per la città E dare del filo da torcere a tutti Alcuni potenziamenti si possono usare solo sugli edifici Altri si possono attivare direttamente Uh difficile Osserci Il spazzurno Che sua Il spazzurno Il bugマ Il né Il 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 Ah, quel quadrato per migliorarlo No Ah, gliel'ho scassato Fine dell'asta per la casa Nome Cacchio Che femminosa Questo è un monopoli divertente ragazzi Guardate, triangolo e cerchio Se riuscirete a ottenere un set completo Riceverete un bonus extra Quindi, occhi aperti E non stupitevi se succede qualcosa di inaspettato Come nella vita reale Gli imprevisti possono capitare In qualsiasi momento Ma non temete Le persone di successo sono artefici della loro fortuna, no? Ci siamo? Allora cominciamo E vinca il migliore investitore L'asta ha inizio Come faccio Non riesco a comprare le case Ah, l'offerta Casa venduta Casa venduta Inizia l'asta Asta terminata Ehi, c'è un evento Un temporale Attenti a non scivolare L'asta ha inizio Asta completata Dai, dai Proprietà venduta Inizia l'asta Proprietà venduta Ora o mai più Che pigata Che pigata che è raga Che pigata Oh! Chi ha vinto? Uno, due, tre, quattro, cinque! Sfida principale Ubisoft! Caspita! Spero che questo piccolo tutorial vi sia piaciuto, e ora andate a costruire il vostro impero, la città vi attende. Bello, carino, carinissimo e divertente raga, quindi seguiranno altri video con questo gioco, con questo gioco. Gioco locale, storia, tutti contro tutti, squadra, facciamo storia. Ho piacere di vedere, quindi mi chiedevo se potessi sostituirmi. Vai tra, le gacanze, vai tranquillo Johnny! Non appena avrai terminato il tour sarò felice bene, fammi sapere. Notturna, spiaggia, eeeh, incredibile, dai fammola prima. Allora, il pingui mi piace, vai di pingui, siamo in sei, ah no qua, vai in prigione, usa per mantenere il giocatore in attesa direttamente in prigione. C'è anche queste cose che di là non l'ha fatto vedere, uh, come è grande! Fico! Allora, dai, 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 fai, fai, fai! Ci proviamo, ci proviamo! Dai! Soldi! L'asta ha inizio! Pasta terminata! Ok! Proprietà venduta! Pasta venduta! Inizio l'asta! Pasta terminata! Bravissimo! Proprietà venduta! ok no attenzione aereo in arrivo meglio stare a te ok questa l'ho comprata o l'aereo voglio fare una fetta io bello sono tutte mie caspita casa in vendita casa venduta proprietà venduta non ho più soldi grande proprietà venduta caspita mi ha stirato forse che la prendo in casa venduta si chiude ultimo ordine è divertentissimo ragazzi magari non c'entra niente con il monopoli ma è figo non c'entra niente con il monopoli non scopero ah 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 tutti arrivati al traguardo 3 4 5 6 7 8 9 10 dovrei aver vinto io con il monopoli con il monopoli incredibile 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 pingui vinci una partita con 5 di medalia vinci 10 proprietà l'asta grande bello allora ragazzi era una piccola introduzione al gioco ma devo dirvi che è figo gioca 30 partite 60 modalità squadra all'asta 17 ha vinci 20 proprietà all'asta no quella la possiamo fare con la prossima dai dai allora ne facciamo un'altra allora hoi tutta la mia stima non è stato un compito facile non avrei sapere di meglio bello dai 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 allora sempre il pinguino perchè mi piace un botto pinguin il pinguin vai dai ne famo un'altra raga poi ci vediamo con Carla e Zan e Boy eh con Bragali TV e Zan e Boy in il mitico Leonardo perchè orca orca sempre più grandi incredible allora a me piacerebbe comprare quella zona lì in basso anche se questa qua sopra non è niente male questa qua delle salamelle eh della porchetta allora forza sei proprietà prima di tutti vai due uno via ok l'asta a inizio No, cazzo! Soldi! Cazzarola! Bella! Dove ci sono? Cosa in vendita! Aereo in arrivo e problemi di visibilità Soldi! Inizia l'asta! Inizia l'asta! Inizia l'asta! Vai, mia, 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 mia! Dov'è che aprono le case? Pronto! Oh! Balordo! No! No! Grande! Ho ben fatto! Ho ben fatto! Ho ben fatto! Ahahah! Ahahah! No, non dirvi che non ce l'ho fatta! Chi ha vinto? Hai vinto, ottimo! Siii, ah, pingui, 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 bimbarco drums Piggidrams, piggidrams Ok, il primo che arriva a 6 property, ah, medaglie, 4, numero di proprietà, 6, soldi 35, bella lì raga Bella bella, mi piace un botto, mi piace un botto, mi ha fatto proprio divertire Non volevo giocarlo perché pensavo che il Monopoly è come è il Monopoly Non tanto divertente ma è il Monopoly un po' una rottura Invece è molto molto bello Vi consiglio di scaricarlo, di comprarlo E di poterlo scaricare con il Plus Extra e Premium Come ho fatto io E ci vediamo alla prossima con questo gioco Che secondo me è veramente figo Ciao a tutti da Monopoly Madness Marco Drums Games Channel Mi raccomando di seguire il mio canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord e Telegram Ma la cosa fondamentale è seguire il canale YouTube Commentate e mettete un mi piace ai video E il mio canale Twitch tutti i giorni alle ore 21 facciamo i video Fichissimi Comunque lascio i link sotto in descrizione del canale YouTube e tutti gli altri Il link tree schiacciatelo pure tranquillamente Che vi porta a tutti i link dei canali social Quindi non è una cosa che dovete installare Non è una cosa a parte Basta che cliccate e vi porta il link tree che metto sotto Su tutti i canali Facebook, Instagram, TikTok, Discord e tutto il resto Ciao ragazzi Alla prossima Marco Drums Games Channel Mettici Ciao Al prossimo video vi aspetto sul canale E a seguire la serie Ciao 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 Ciao